Continua il nostro viaggio di Azzurro, storie di mare. Domenica prossima alle 7.05 su Rai 1 navigheremo lungo le coste della bellissima Calabria, salpando da Cariati. Siamo salpati per una nuova puntata di Azzurro, storie di mare. Il nostro viaggio continua in una regione del fascino unico, la Calabria. I pescatori, le ricette di mare e un'intervista speciale a Giuseppe Zeno saranno i protagonisti di questa puntata, domenica Rai 1 alle 7.05, Azzurro, storie di mare.